di tenere questo coraggio anche quando arriveranno i momenti difficili. Oggi c'è stato un incontro con la gente di Cialanoglu, se ci può raccontare come è andata, se ha sensazioni positive sui possibili di Novo? Sì, ci proviamo, loro anche ci provano, quindi siamo in situazioni un po' delicate perché è un giocatore che comunque sta andando a scadenza, però c'è grande disponibilità da due parti. Uscite con sensazioni un po' più positive rispetto a qualche giorno fa? Sicuramente c'è una collaborazione generale per arrivare a un risultato che dovrebbe comunque mettere d'accordo. Ci dà le sue sensazioni su Cialulu? La sua lettura su questo ragazzo? Magari in questi giorni gli ha trasferito anche qualche messaggio in più? Ho parlato pochissimo con lui perché mi ha mai parlato ipotizzandolo in un ruolo di terzino e adesso si è dimostrato un ragazzo magari con caratteristiche più adatte al ruolo di centrale. Lui l'ha fatto naturalmente anche nelle giovanie del Lione e non ci dimentichiamo che è un ragazzo del 2000 che il giorno che è arrivato da noi aveva fatto nel totale della sua carriera una panchina con Lione, quindi è un ragazzo che deve fare esperienza. Un sorridente Paolo Maldini, oggi è una giornata speciale per lui ma per tutto il Milan perché il 16 dicembre è il compleanno del Milan, compie 121 anni e quindi sicuramente vorrà regalarsi una vittoria e soprattutto provare a consolidare il primo posto. Dall'altra parte invece c'è un Genoa che cercherà di rovinargli la festa e soprattutto cercherà di trovare questo riscatto che ancora fino adesso non è arrivato. È arrivato il momento invece adesso di scendere in campo, inizia Genoa-Milan. Buon divertimento a tutti!